Vanea USA è una compagnia che fa vendita al dettaglio di distribuzione di Castel siamo un'azienda che da molto tempo è negli Stati Uniti di proprietà italiana cerchiamo di portare Made in Italy nella pontea di Bergen County offrendo prodotti in esclusiva tutti i prodotti che puoi trovare in questa showroom sono prodotti che solamente noi vendiamo nell'East Coast con il fine di aprire più punti vendita nel giro di pochi anni cerchiamo di offrire dei prodotti Made in Italy in un ambiente minimale, moderno attraverso degli espositori fatti in Italia, importati da noi il 10 ottobre ci sarà la celebrazione dell'apertura della nostra sala mostra ci sarà il taglio del mastro in parte dell'onorevole Bill Pasquerel rappresentante degli Stati Uniti e New Jersey saranno invitati molte compagnie, molti imprenditori locali per tutte le istituzioni italiane e inoltre la showroom sarà aperta al pubblico dalle 5 alle 8 con un aperitivo italiano a tutti i nostri spettatori